Sono Luca Ziveri per Piccardo TV, siamo qua con Riccardo Santurro dopo la partita col Felino, finita per 0-0. Oggi è stata una partita dura, con due clienti difficili, ben controllati. Dici qualcosa sulla partita? È stata una partita difficile, lo sapevamo, dovevamo fare risultato, non è venuto, comunque la campionata è lunga e ci sarà tempo e modo per crescere e aggiustare quelle situazioni che abbiamo bisogno. Se giocaremo ancora così, con questa attenzione, quest'oggi ha annullato Mifta e Medgur, penso siano i migliori attaccanti del campionato. Per Piccardo, tutta la linea difensiva si è comportata bene, anzi forse abbiamo concesso qualcosina di troppo sui nostri sbagli, però comunque tutto all'inizio dell'anno che stanno lavorando bene, in fase difensiva, sicuramente dobbiamo crescere in fase offensiva, nel senso nello sviluppo di tutta l'azione, comunque penso che abbiamo tempo e modo per crescere tutti insieme. Grazie, alla prossima partita, bello, Piccardo TV!